Domani l'attesa udienza preliminare al Tribunale di Pescara sul disastro di Rigopiano, dopo diversi rinvii, gli ultimi per l'emergenza Covid, per garantire tutte le misure di sicurezza. Il 18 gennaio del 2017 una slavina travolse e fece crollare l'hotel di Farindola, provocando 29 morti. 25 gli imputati nell'inchiesta principale, 7 quelli dell'inchiesta bis per depistaggio. Oltre 250 tra magistrati e avvocati di parte, personale della cancelleria, agli stessi imputati, impegnati in quello che è uno dei processi italiani più importanti. Questo processo riprenderà in cinque aule diverse, in connessione le stesse in videoconferenza. E accadrà che in una aula ci sarà il giudice, il cancelliere, i due pubblici ministeri, gli avvocati degli imputati e gli imputati. Poi ci sarà un'altra una seconda aula dove ci saranno i responsabili civili, che sono cinque, e i legali dei responsabili civili. E poi ci sarà una parte degli avvocati delle parti civili. Nell'aula, in un'altra aula, diciamo la terza aula, ci saranno altri legali di parte civile, circa 18, e in un'altra aula ancora ci saranno i restanti avvocati di parte civile, che sono in tutto circa 52. Nell'aula Alessandrini ci saranno tutte quante le parti civili. Pare che, tra l'altro, il giudice dell'udienza preliminare intende fare le udienze settimanalmente, ma questo, ripeto, sarà deciso domani. Un processo molto delicato, ha spiegato Arturo Messere, per la situazione fattuale per numero di imputati e parti civili, che terrà tutti impegnati in un lavoro di non poco conto. A proposito delle responsabilità, va detto che noi avvocati difendiamo e poi se ci sono responsabilità umane o meno, questo lo decideranno i nostri giudici.